Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Grazie. Raggiungo il difensore? I bagni? Bravissimo! Grazie, grazie. Gli hanke, funghi e quattro formaggi. Faccio una cattiva! No, calma e presto! Come mai arriva! Muglio! Elimina tutto! mi giuro di odio ragazzi c'ho la mamma che è una troia c'ho la mamma che fai chi fai chinotti porco dio fai chinotti mia madre fai chinotti alla fine rovinato tutto fermati sono tutti dei furti dalla apple che ti brucia i cellulari alla sony che ti vende la merda fatta di plastica con i cinesi sfruttati alla guarda la microsoft penso sia l'unica all'incirca che sia ancora mezza di la troiata di la troiata dimmi che windows 11 è bello puttana eva vengo a roma dillo ma allora io che cazzo devo dire che è bello mozilla file fox è bello allora andiamo in giro a scambiare c'è i porno con l'occhio a 98 parco dio col bluetooth della sacchira che non è un fenomeno con 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 la musica dei dei link in park dei indiente con broli che piazza questa altra parte perché il vandalo del porco di dio il vandalo del porco di dio ricercato molto spesso da roldio non versione già fanno due scambi fanno due scambi poi lanci fai di roma e già abbiamo già la coppa in tasca da io a morco di è tanto guarda che bucio del culo quest'altro no sergio li vera che deve farlo bravo bravo non riesco a ragionare oddio al 10 te prego totti totti te prego totti 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 tercente se non sbagliavi tu mi fai feste stronzate guarda guarda di dovevi mettere divisi facevamo il doppio sempre tu maresciallo non ci prendi un ora sei stipendi sono con la mia fede con amore compro tre appartamenti prezzitamenti alex astrone sempre in tour di strada sempre in tuta l'amore che è blecco solo blecco porti una stella incredibile anzi questa è sofia o niente ometti sofia fiorini di becchi porco dio ma vaffanculo va porca madonna che stai a fare grazie l'autagra per i 5 niente gioco a golf ma fa la da 400 ma sia la ne posso spara una che vuoi spara e ne sparo una si penso e mi ricordo come si sparano ma come si sparavano erano degli sparati erano quelli la che lanci a capodanno a napoli lo sfasciato in due completamente ma non è non so quelli tipo della laurea che di volta e grazie di venti grazie di volta e mua 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 bello di casa ma vaffanculo ci ha pushato sto fiode la mia morta ma che se ne vuoi 11 e 23 però me li splitti pure a me splitta 5 e 12 Giamma sopra porco dio vabbè Giamma sono due numeri anziché uno dopo le sciogliamo solo uno e ci mettiamo 30 euro lo zero 11 e 23 con i lightning cazzo quello 10 con lighting non sarebbe male dovrebbe darlo 11 sono un vecchetto sono un vecchetto sono un vecchetto io devo crearti voi venite dalle mie mani il profetto il profetto il profetto il profetto come sono come ghost con il vaso soffi sì sì il mio fratello francesco allora io mi auguro onestamente che sia francesco perché nella situazione in cui mi ha chiesto di essere salutato in live era una situazione un pochino così quindi potrei aver sbagliato il nome però sono abbastanza sicuro che fosse francesco nel caso nel caso comunque sa chi sa chi sto salutando francescone poi ti faccio anche un regalo a te un salutone un Cute il esterete e il riposo è un bisogno di essere salutato in livello in livello in livello la vita mia ma quella canzone tra le più belle che abbia mai sentito sì c'è non posso dire di non lo sapete che ci sta dicendo un bucio di culo che è amoroso infatti c'è stati dei bei tumbles dai 32 32 sta marverano mi piace ma mi piace proprio hai portato su pc sta roba eravamo tanto felici con quella merda che trovavamo l'hai dovute portare su sto che si tratta da schifoso pezzo di merda a me l'importante che facciamo le asian non me ne frega un cazzo perché dovevamo farle domenica porco di dio se oggi sapevo che doveva andare così io neanche stream ma ho capito c'ho tua madre di la cosa che devi riavviare il gioco stanno partendo di nuovo i spit sei volte basta 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 almeno donatemi le 5 mila botta porco dio già mo sei puntanto da nico pandetta che brandisce una pistola ma non la tiene più nella fendi dall'altra parte c'è io che rinocca sareccio che parte lo stesso che fai scappi o cacci un surri depravato pronto con un vlog su un aereo dicendo che lo champagne non gli piace posso chiedere cosa dicono il p è uno è uno vale grazie per i due offerta di balle da parte dell'altro solo che è a parte aver smontato il corso di elgato e con il cazzotto con il cazzotto o 1 chiuso ho crashato no 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 john ma non sei crashato hai crashato delu essendo morto delu hai vinto tu l'elenco no 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 Grazie a tutti.